Per evitare che sull'elezione del Capo dello Stato la politica italiana dia pessima immagine di sé, continuando magari a perdere tempo per giorni, noi crediamo che sia nostra responsabilità cercare di fare un passo avanti, crediamo che sia nostra responsabilità fare delle proposte concrete. Partendo da alcuni presupposti che dimostrano il fatto che quella che stiamo proponendo oggi non è né una rosa di candidati di bandiera né tattica, sono presi presupposti di numeri e di politica. Punto primo, il centrodestra non ha i numeri per eleggere da solo un Capo dello Stato, ma ha i numeri maggiori nell'attuale Parlamento. E quindi il centrodestra ha diritto a proporre una rosa, a fare delle proposte e a chiedere agli altri di esprimersi su quelle proposte, che è esattamente quello che a parti invertite gli altri farebbero con noi, anzi, hanno provato a fare questa proposta anche non avendo i nostri stessi numeri. E quindi vuol dire che la proposta è sensata.